Approvato in Consiglio dei Ministri il decreto che permette alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione di anticipare le ulteriori 4 previste. A dare l'annuncio è stato il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo su Twitter. Subito dunque un altro mese di cassa integrazione senza interruzioni e non più i due step decisi inizialmente. Il che significa che le ulteriori 4 settimane delle 9 previste al decreto rilancio sul totale di 18 potranno essere utilizzate in anticipo e in continuità con le precedenti, in modo tale da non lasciare scoperte alcune imprese e lavoratori già dalla fine del mese di giugno. La decisione del Governo, che ha avviato contestualmente la riforma del sistema, fa eco al rapporto Istat che ha indagato sulle conseguenze del Covid sul tessuto aziendale italiano, i cui dati dicono che 4 aziende su 10 hanno visto dimezzare gli affari e quasi una su 6 li ha azzerati. Anticipare le altre 4 settimane di cassa integrazione è un primo passo per i sindacati, che però chiedono anche che ammortizzatori e blocco dei licenziamenti vengano prorogati fino a fine anno. Intanto il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano ha firmato il decreto istitutivo delle zone economiche speciali per la regione siciliana. Sull'isola saranno due, una per la Sicilia orientale e una per la Sicilia occidentale, per un totale di quasi 6.000 ettari, tra aree di sviluppo industriale e aree portuali e retroportuali. L'obiettivo, si legge in una nota, è quello di attrarre investimenti in particolar modo nell'ambito dell'economia portuale in settori come la logistica, i trasporti e il commercio, e di accompagnare la transizione ecologica degli insediamenti produttivi attraverso una drastica semplificazione amministrativa e la possibilità di accedere a forti sgravi fiscali. Soddisfatto è il Governatore Nello Musumeci. Nei prossimi giorni presenteremo un disegno di legge per concedere il credito di imposta aggiuntivo a chi verrà a investire nelle nostre due zesse, ha detto il Presidente della Regione Siciliana. Con il Ministro Provenzano definiremo presto il cronoprogramma, affinché si possa passare dalla pianificazione all'attività di sostegno.